Quando vuoi? Buonasera signore e signore e tutti quelli che ci state guardando sui teleschermi, altro appuntamento casalingo dei Krebs, questa volta l'avversaria è Rieti, non è un'avversaria che si vede tutti i giorni in questa Serie B, appuntamento molto importante, partita complicata, complicatissima, ma una recente versione dei Krebs, recentissima, l'ultima nello specifico, fa ben sperare, quantomeno sull'atteggiamento dei granchi e poi sulle qualità tecniche che gli avversari impareremo a conoscere durante la partita, vi descriveremo i punti di forza, Rieti fortissima, ma i Krebs possono tranquillamente, almeno per quello che si è visto nell'ultima partita, tenere testa dal punto di vista mentale. Tecnico è un'altra cosa, ma mentale sì. Sì, assolutamente, è importante quello che dicevi, anche perché questo è un campionato molto particolare, le prime 4 credo che abbiano perso solo gli scontri diretti, non sono praticamente conosciuti quest'anno gli upset sul campo del Girone C, quantomeno, e quindi vediamo se succederà almeno quello che auspicavi tu, buttiamo lì Fanta Basket, mentre intanto la partita, come abbiamo visto, è iniziata con un canestro di crotta. Se Rimini vince, agguanta anche Viterbo e secondo me se Rimini dovesse vincere una partita di questo tipo, allora potrebbe anche pensare, proviamo a vedere se arriviamo ai play-off, perché la salvezza probabilmente sarebbe archiviata. Tanti spunti dunque, intanto un 2-2, tutte e due da sotto canestro, Crotta e Rosignoli si scambiano un lay-up, Cercolani con la palla, intanto si arresta all'interno della linea dei due punti, sbaglia, il rimbalzo è di Spizzichini, Krebs in campo con Perin, Cercolani, Chiera, Tassinari e Crotta che adesso va a uscire forte, ancora Rosignoli, Spizzichini anzi, il tentativo dalla media distanza, va a bersaglio, subito molto precisa, Rieti con Spizzichini in questa occasione, Rosignoli prima, i due sono in campo anche con il numero 7 Stanic, poi adesso a marcare Perin per un attimo, Iannone con il numero 6, intanto Crotta a linea di fondo, altra grande attività di Crotta, molto reattivo in queste fasi della gara, in questo inizio, 4 pari dopo nemmeno due minuti di partita, la palla è per Stanic che la riscarica fuori per Spizzichini, poi per un attimo a Granato, ancora Spizzichini sulle tacche, fuori se resta e va a prendersi la linea di fondo, Iannone gli viene toccata palla ma la palla tocca, dice l'arbitro, comunque sul ginocchio di un giocatore dei Krebs, ci sono 14 secondi sta di fatto per l'azione offensiva di Rieti, che va subito a rimettere per Spizzichini che riceve con qualche difficoltà, chi era su di lui, Pagadazzi dal punto di vista fisico, ma c'è l'aiuto di Crotta che va a stoppare, può ripartire Rimini con Perin, ancora vivo il palleggio di Perin, si resta poi sull'attacca, soluzione complicata, non prende neanche il ferro Perin, dall'altra parte Stanic va dentro con grande esperienza Stanic, poi buono lo scarico per Iannone, un canestro costruito in transizione nella maniera migliore, non c'era bisogno ma anche da questi particolari vede che Rieti è una squadra che i cosenesti se li sa costruire, parleremo dopo infatti della splendida distribuzione di punti della squadra azione. Sì, di punti, di minuti e anche del fatto che come capita alle grandi squadre costruite bene, se voi andate a vedere le statistiche individuali, Stanic è il primo negli assist ed è l'unico giocatore di Rieti insieme a Rosignoli, mi pare, gran canestro di Chiera insieme a Rosignoli che è quarto nei rimbalzi, ma sono gli unici giocatori di Rieti a comparire nelle statistiche individuali, proprio perché come dicevi tu è una squadra profonda in cui tutte le responsabilità sono distribuite. Spizzichini ancora con la palla, poi per un attimo Rosignoli che non riesce a darla a Stanic, adesso Stanic la rimette sotto ancora per Spizzichini, sulle tacche la tocca Chiera, anzi no, la perde per ultimo il giocatore Riettino e allora Chiera si va a prendere questa rimessa, la situazione di sette parti, sono i credo spirillanti che abbiamo visto nell'ultima esibizione casalinga, avversaria di diverso cabottaggio, ve lo abbiamo detto e si è anche visto subito in questi primi tre minuti, Tassinari adesso con la palla alto basso per Crotta che non riesce ad andare su in maniera efficace, la palla toccata da Stanis però sulla linea di fondo consente a Rimi di avere un altro spizzico di attacco, 13 secondi da giocare, la riceve Chiera, Cercolani deve affrettarsi, meno di 10 secondi ora, Cercolani sull'attacca, tiro non in equilibrio però Crotta se la ritrova lì, il ferro lo becca ma non il canestro, il rimbalzo di Rosignoli, la palla portata dall'altra parte da Iannone, Iannone cerca di prendere di infilata la difesa di Rimini, da tre non si fida Stanis, allora va dentro il fallo di Tassinari, è il primo fallo di squadra di Rimini, il primo fallo di questa partita in generale, dopo tre minuti e 32 secondi di gioco, Cosunadelo intanto cerca di spiegare alla sua panchina il movimento corretto in quella situazione, Stanis ancora con la palla con 10 secondi ora per l'azione d'attacco, chiama il blocco che si materializza con Rosignoli, Stanis va ad appoggiare al vetro, sbagliato, rimbalza l'attacco di Rosignoli, altre 14 secondi, spara subito Granato e Granato la mette da tre, abbiamo parlato di profondità, distribuzione dei punti, intanto Tassinari risponde e Rimini ha sempre risposto agli ultimi canesti di Rieti, parliamo di questo però perché i primi quattro canesti di Rieti, quattro giocatori diversi. Sì, Granato peraltro tira anche il 40% da tre punti, tra l'altro per completare quello che dicevamo prima, a volte le squadre dove c'è grande distribuzione magari non hanno un leader o comunque sono squadre che non hanno un go to guy, poi riescono, fanno fatica a individuare il giocatore a cui dare la palla nei momenti importanti, non è il caso di Rieti, tutti possono far canestro e sono tanti i giocatori che si possono prendere il pallone per una giocata decisiva, quindi queste due cose rendono l'avversario un pochino difficile da maneggiare. Palla per Rimini, 10 pari, al di là del vantaggio iniziale di Crotta, poi ogni volta che è andato avanti Rieti dal 4-2 al 7-4 in poi, Rimini è sempre risposto praticamente a una azione successiva, intanto il fallo fischiato a Spezzichini sembra, vediamo la segnalazione, è così, Spezzichini, Chiera adesso a ricevere, ancora 17 secondi per l'azione d'attacco per in, va dentro, la palla per Crotta è un po' pigra, Chiera però molto sveglio la recupera, non trova il canestro sfortunato qui, Adrian Chiera riparte in velocità, Rieti sbaglio questa volta da 3, tap out di Crotta pronto a correre dall'altra parte, buon segnale questo, a correre in difesa, Cercolani sotto, vede solo per in, l'ora gliela dà giustamente nuovo vantaggio Rimini adesso, 12-10 per la squadra di coach Mladenov, dopo 5 minuti a buona fluidità in attacco contro una squadra che peraltro ha miglior difesa del girone, parliamo anche di questo, in basso di Chiera, subito l'altra parte per Perin, 2 di Perin e se è vero che i primi 4 canestri di Rieti erano stati segnati a 4 giocatori diversi, anche Rimini ha mandato a segno quasi tutto il suo quintetto base, solo Cercolani ancora non ha segnato ma 4 di Crotta, 4 di Perin, 3 di Tassinari, 3 di Chiera, dicevamo di Rieti, primo a difesa del girone con 66 punti subiti in media, ma anche secondo attacco, con oltre 80 segnati 81 è sempre la precisione, questo vuol dire che come dicevi prima, Palestrina prima ha vinto una persa, ma poi ci sono Montegranari e Rieti che ne hanno perse 3, la differenza non è tanta, lì si spacca il campionato, da quella grande qualità delle prime squadre alle altre c'è una discreta differenza fino a questo momento. Sì è così, solo la poderosa dicevamo appunto, fa meglio in attacco, direi qual è la miglior notizia che puoi avere da una partita di questo tipo, che a metà primo quarto Coach Nunzi chiama un time out che probabilmente non avremo preventivato, non è che lo chiami perché vuol sistemare qualcosa in attacco, ma per fermare un parziale di Rimini. Ed è incredibile se pensate che, come avevamo accennato prima, i punti a partita subiti da Rieti sono 66.2, subiti 14 dai Krebs in 5 minuti e 5 secondi, la proiezione fantascientifica e magari non arriverà a superare 100, anzi certamente non lo farà, ma insomma l'inizio è più che buono da parte della squadra in maglia nera che rientra col medesimo quintetto non cambia niente neanche Rieti, rimangono tutti e 5 gli iniziali, questa è però una penetrazione troppo facile per Stanis che va a imbuccare 11-12 punto i primi due personali e hanno segnato tutti adesso quelli del quintetto di Rieti. Palla sotto per Cercolani, gran palla e Rimini si trova con fiducia e al di là del fatto di giocare bene o male, questa è una squadra che sta dimostrando brillantezza e fiducia prima di ogni considerazione tecnica in questo momento. Giannone in punta dalla parte del blocco di Rosignoli, riblocca Rosignoli, Giannone trova dall'altra parte Spizzichini, da due punti segnala l'arbitro, può ripartire per il no perché è l'imbalza di Stanis che la dà in maniera fantascientifica sotto. Qui Rosignoli segna due punti ma bravo, bravissimo Stanis. Ebbè dicevamo il primo negli assist, insomma ci ha fatto ampiamente capire perché è un tipo di passaggio difficilissimo, fatto praticamente senza raccogliere il pallone, mentre stava rimbalzando giù di lì, il canestro meraviglioso, ma è il 90% merito dell'assist. Spaglia per in da tre, rimbalzo di Spizzichini, va Stanis dall'altra parte, prova a correre, non tira da tre, dubbio il perno, Giannone penetra, gli ruba la palla dalle mani Cercolani con un'azione di grande destrezza, la da Tassinari in contropiede, corre bene Rimini, corre molto bene con Cercolani, Tassinari qui, trova i due punti del 18-14, non si ferma l'attacco dei granchi, è stato continuo per i primi sette minuti di gioco e questo di fronte, come dicevamo, a una buona difesa come quella di Rieti, è certamente una mini sorpresa in questo inizio di gara. C'è il fallo in attacco, si stavano letteralmente menando Spizzichini e Tassinari, qui l'arbitro sulla linea di fondo ha visto la sbracciata di Spizzichini. Sì, si erano annodati, credo che sia stato particolarmente bravo Tassinari a far vedere all'arbitro che il contatto lo penalizzava, sinceramente non ti saprei dire chi dei due avesse ragione, per cui siamo contenti che il fischio sia andato da quella parte. E da una parte entra il 98 Meluzzi e il 96 Biordi, dall'altra parte entra il 2000 Feliz Angeli, giusto? È un giovanotto. Il giovane Feliz Angeli. È un 74, quindi praticamente è un coetaneo di chi vi parlo giù di lì. Potrebbe essere tranquillamente il padre di Meluzzi e Biordi, ma tranquillamente. Fallo in attacco di Biordi, è troppo ingenuo qui nel cercare di andare a prendere posizione sotto. Fallo di Meluzzi, anzi, fischiato Meluzzi. Strano, abbiamo visto un contatto netto a centraire di Biordi, abbiamo visto qualcos'altro i due arbitri. Porta palla dall'altra parte Giampaoli che è entrato assieme a Feliz Angeli, la palla sotto subito per Feliz Angeli, la recupera, la tocca a Chiera, la recupera Tassinari. Palla per Perin, Meluzzi e Biordi sono entrati per Cercolani e Crotta. Ancora Perin col palleggio aperto, va dentro con la moto Perin e segna il sesto punto personale, 6 di Perin e Rimini è più 6, 20 a 14, neanche 8 minuti 20 punti. Grande spettacolo. Al Flaminio da parte della squadra di Cas Giampaoli sbaglia, rimbalzo, toccato e recuperato da Davide Meluzzi. Poi Perin. Chiede un attimo di abbassare il ritmo, Koss Mladenov non c'è contropiede, allora si gioca difesa schierata, si chiama lo schema, però si deve anche cercare di iniziare qualcosa. Fino a questo momento molto poco, Perin va dentro. La palla prende Tassinari, deve risolvere lui. E questo è il karma, perché il peggior attacco della serata, senza dubbio, ultimo secondo ti entra la palla. Sì, adesso la palla sembra francamente teleguidata, tutte le volte che esce dalle mani dei giocatori dei Krebs si deposita bersaglio, però questo conferma quanto stiamo vedendo. Intanto ancora gran lavoro di Stanic, che è quello che sta tenendo un po' in piedi l'attacco della sua squadra. Confermo quello che stavamo dicendo, ovvero che puoi qui segnare, aiuta a segnare. I Krebs sono in fiducia, sono mentalmente molto lucidi, sanno che questa è una partita in cui hanno poco da perdere e oggi hanno un atteggiamento diverso, perché di partite in cui c'era poco da perdere ne abbiamo viste tante e c'era talmente poco da perdere che i Krebs entravano con l'atteggiamento sbagliato e andavano sotto di 20 in 3 minuti. Qui è Tassinari esattamente il contrario, hai poco da perdere e giochi la tua palla canestro. Stanno entrando i canestri, c'è grande fiducia e c'è un bel atteggiamento. Stanic con il 2 più 1, 22 a 17, è arrivato il massimo vantaggio prima sul più 8 Rimini, intanto Meluzzi per Chiera, Biordi riceve palla sotto contro Rosignoli, fa spalle canestro a Biordi, l'appoggia al tabellore. Segna anche Biordi e Rimini ha percentuali pazzeschi in attacco. 26 punti, 24 anzi ma poco cambia a un minuto dalla fine, 11 su 16 al campo è pazzesco. Aglio corre in basso, anche lui è entrato da poco per Tassinari e Perin. Siamo entrati nell'ultimo minuto sul più 7 per Rimini, Biordi, Becdori e Meluzzi che non si concatizza. Allora Biordi gli dà la palla oltre la linea da 3, Perin ancora con la palla, uno dei migliori, primo quarto, ottimo per tutti quanti. Grande il passaggio sotto per Perin che commette infrazione per Meluzzi, che commette un'infrazione in passi evidente. Cambio subito, entra Cercolani ed entra Azic, esce Chiera ed esce presumibilmente Perin. Fa uscire Meluzzi con Smladeno. Non può tenere il palla fino alla fine del quarto Rieti perché sono 35 ore i secondi da giocare nel primo periodo sul più 7 ancora per Rimini. In frazione di passi un'altra. Secondo io da giocare, sono 24 con 7 decimi, Rimini si può giocare l'ultimo possesso e per l'esperienza che ci vuole. Mette Tassinari e Crota, Coach Mladenov. Cambi, probabilmente non abbiamo mai visti così tanti in sequenza, ma se funziona e non funziona solo un giocatore, fino a questo momento ha certamente ragione Coach Mladenov. Sì, da quando poi in particolar modo c'è Coach Mladenov abbiamo visto una gestione dei cambi molto più rallentata. È la prima volta in assoluto, però è l'altra buona notizia di questa partita, è che nessun cambio ha portato a un calo della qualità e dell'intensità. Fallo quasi voluto da Rieti che ne ha due a tabellone, ne può spendere ancora un altro prima di mandare Lunetta a Rimini. I secondi vanno quasi ad esaurirsi, 7 da giocare nel primo quarto e andare subito a cercare direttamente il canesimo. Ci sono 5 secondi, un conteggio abbastanza veloce da parte dell'arbitro. Perde palla Rimini, altro cambio, rientra Aglio per Tassinari. Se la gioca come se fosse l'ultimo quarto, Mladenov. No, è che qui non so se è posseduto dallo spirito del grande Dado Lombardi, perché stiamo vedendo una cosa che non vedevamo a Rimini da 30 anni. E a non rimettere palla, anche lui quasi commette infrazione, Stanis, attenzione ad Asic su di lui e fallo da 3 tiri liberi. Fallo da 3 tiri liberi, a 4 secondi dalla fine. Stanis ha visto il raddoppio, Asic messo male, Cercolani pure e gli si è buttato davanti. Sì, e le proteste sono ingiustificate, anche del coach. Il coach chiaramente protesta, più che altro, credo, murignanamente, per far vedere alla sua squadra che è con i giocatori, perché era troppo evidente, troppo clamorosa l'ingenuità per contestare questa scelta arbitrale. 2 su 2 fino a questo momento, c'è anche un po' di tempo. 4 secondi e 6 decimi sono rimasti ai Kreuz per l'azione d'attacco. 3 su 3 di Stanis. Crotta va per Perin, che deve sbrigarsi. Ha tempo per alzarsi da 3 punti, lo tira in terzo tempo e sbaglia. Secondo ferro solamente. Peccato per gli ultimi tre liberi, fatto sta comunque che il 24-20 è comunque l'usinghiero per i Krebs che hanno giocato un primo quarto splendido. Sì, chi l'avrebbe mai detto che avremmo commentato la ferie nel primo quarto dicendo che Rieti lo chiude sotto di 4 e deve essere contenta, perché è un passivo limitato rispetto alla differenza che si è vista in campo fra le due squadre. Perché onestamente il più 7 era quello che assolutamente ci stava, ma d'altra parte è quello che poi fa la differenza fra squadre con grande esperienza e squadre no, come Rimini in questo caso, ed è la capacità di gestire le ingenuità. Un'ingenuità ha fatto sì che i Krebs andassero con 4 punti di vantaggio, ma questo non toglie che abbiano giocato una grandissima partita. Ed è stato anche al di là degli 8 punti Stanic, quello che ha tenuto a galla Rieti, perché con il suo saper prendere in mano la squadra, 3 assist e 8 punti è entrato in tutte le azioni d'attacco, perché 8 punti e 3 assist vuole dire che almeno il 70% delle azioni d'attacco hanno avuto il suo timbro. Sì, stavo facendo un conto così alla buona, 14, però poi se non sbaglio la tripla di Gnannone l'assistera suo, quindi sono almeno 15 punti imputabili a Stanic. 15 su 20 è praticamente i tre quarti il 66%. Stato anche precisissimo ai liberi, Stanic 4 su 4, sono gli unici tirati da Rieti in questa partita, per Rimini ci sono 7 punti di Tassinari, c'è un ottimo per in che è a 4, Crotte a 4, Chiera a 3, poi Cercolani 2, Bjordi 2, hanno segnato un po' tutti, come dall'altra parte, una partita giocata bene in attacco sotto diversi punti di vista dalle due squadre. Volevo dire che Stanic è il 75%, non il 66% dei punti, perché se non poi magari qualcuno mi tira le orecchie giustamente, 66 e i due terzi ho detto i tre quarti. Siamo precisi, tutto l'arbitro a metà campo si spiega con Koss Mladenov. Iannone a rimettere in campo per Rieti con Stanic, Felic Angeli, Giampaoli e sulle tacche qua a destra Ponziani, Rimini a Cercolani e Asdic qui a marcare la rimessa, poi Tassinari, Chiera e Crotta. Stanic con la palla per il primo possesso del secondo periodo, sul meno 4 Rieti, 24-20 per i Krebs. Subito la tripla trovata con buona libertà, rimbalzo di Asdic, un becca neanche il ferro alla tripla di Rieti, corre Chiera sul lato sinistro, cerca una palla sotto, molto complicata troppo, la palla toccata fuori però, proprio da Stanic. E quindi non cambia il possesso, ma ci sono comunque ancora 18 secondi per l'azione d'attacco per i granchi. Asdic a rimettere, Cercolani. A ricevere Chiera, cerca l'uscita di Tassinari, la trova in questo momento. Asdic il consegnato, cerca di andare dentro Asdic, poi si arresta sulla lunetta, buon canesto anche di Asdic. Andrà come andrà, questa è una considerazione per l'inizio, una partita molto particolare. tutti bene quelli che entrano in campo, tutti a segno, tutti con qualcosa di buono. Non succede spesso, e contro un avversario così non succede quasi mai. No, infatti, qui Asdic secondo me è viziata il suo canestro da un'infrazione di passi in partenza. Poi la difesa lo ha perso, forse l'ha un po' battezzato, errore, perché Asdic sicuramente ha la sua qualità migliore nel tiro. E anche Cercolani, che magari non era stato tra i più splendenti del primo periodo, mette una tripla. E signori, 29 a 20, 29 in 11 minuti per Rimini. Niente male davvero. Anche qui Jannone a ricevere. Asdic molto attento, non deve commettere falli ingenui. Jannone a palla sotto. Non la tocca nessuno. Chi era esulta, palla recuperata per Rimini, che comunque aveva difeso di Schettanente per 20 secondi. Ed è stata premiata con questo recupero. Fatica a rimettere ora la squadra di Mladenov, da Tassinari, la deve portare dall'altra parte. Fatica un po'. Gli viene commesso fallo non fischiato. Sotto la palla sbagliata. Il lay-up di Giampaoli, in maniera incredibile, una squadra come Rieti, che è un giocatore che sbaglia un lay-up del genere. Meno due più tre non c'è, perché Chiara sbaglia la tripla. si rimane 29-20. Partita sicuramente frizzante in diverse fasi del gioco, anche negli errori, sono errori particolari. Stanic per Felice Angeli. non riesce a segnare Felice Angeli. La palla è l'ultima a toccarla, è stata capitata a Sinari. Si lamenta per un'infrazione in fasi, non fischiata il pubblico del famiglio, ma il possesso di Rieti è tale, ancora non riceve Giampaoli. Ora sì, palla subito sotto per Stanic, che la riscarica per Jannone. sono cinque secondi per l'azione d'attacco di Rieti. Giampaoli da nove metri. Accorcia un po' la forbice per Rieti. Giampaoli da tre, 29-23. Palla recuperata ora dalla squadra razziale. Stanic ancora a dirigere le operazioni. Direttore d'orchestra dei suoi. Per Jannone, va sul blocco di Felice Angeli, che non glielo porta neanche. Ora zona Rimini, vediamo cosa produce. Felice Angeli, sbaglia da tre, rimbalzo toccato, poi recuperato da Crotta. Chi era? Possesso ragionato qui per Rimini. Chi era ancora col palleggio. Gioca due con Crotta, poi la da Asic. Triangola per dare il possesso a Crotta. Fallo fischiato a Ponziani. E' il primo fallo per Ponziani. Molto bravo qui Crotta, a prendere posizione forte, perché il passaggio di Asic era sbagliato. Era nella direzione opposta al movimento di Crotta. E quindi, se gli arbitri non avessero fischiato per la buona posizione del centro di Rimini, non ci sarebbe stato neanche niente di cui lamentarsi troppo. Però appunto, bravo Crotta, perché invece ha preso posizione forte e questo gli ha permesso di portarci a casa il fischio. E' entrato per Impercercolani. Asic ha un po' di spazio per dire da tre sbagliari. in basso di Felicciangeli. Sarabia Mladenov. 29-23, a sette da giocare nel secondo quarto. Stanis. Poi Giampaoli non tira questa volta. Felicciangeli cerca di andare dentro con esperienza. La dà sotto a Rosignoli. Chiama doppio palleggio Crotta. Il fischio invece è per un fallo di Crotta. E' il primo fallo. No, non sono d'accordo perché secondo me era fallo di Azic che era dall'altra parte. L'arbitro probabilmente ha visto il contatto contro Crotta ma era un contatto forzato, a mio avviso, da Azic. Stanis con i 14 secondi. Fallo in attacco di Rosignoli che si era abbracciato fin dal primo tentativo di blocco con Perin. Comincia a farsi un po' tesa anche dal punto di vista così arbitrale dei contatti e questo vuol dire anche che è una partita che si gioca. No, ma infatti mi hai tolto le parole di bocca. E' interessante vedere che Rieti ha bisogno di sporcarla. Perché non l'avresti mai detto? E se ha bisogno di sporcarla è perché si rende conto di non averla in mano in questo momento oltre che per il risultato anche proprio per l'atteggiamento fisico di Rimini che c'è, che sta giocando con una certa durezza che non eravamo abituati a vedere. Passinari sotto, un po' avventurosa la palla va a finire che va dentro, non va. Tocco di Azic 29-23 se li rimane 6-27 a giocare possesso Rieti e palla per Stanis come sempre che è preso in questa occasione da Perin fuori dall'età che Rosignoli e poi Iannone poi ancora Stanis di nuovo Iannone in angolo Iannone trova pal sotto Feliciangeli il tocco non va per Rosignoli buono il recupero di Azic e poi adesso Perin dall'altra parte stringe anche in difesa Rimini dopo un ottimo primo quarto in attacco adesso è 2-3 minuti almeno che Rimini non segna ma rimane più 6 perché difensivamente sta reggendo molto bene solo 3 punti di Rieti in 4 minuti e 20 secondi Perin sotto per Crotta Crotta qui deve segnare segna Crotta giocata molto molto bene anche questa volta altri due di Crotta sta producendo tantissimo con tanti suoi componenti deve ricorrere un altro cambio rientrerà Granato per Rieti Iannone da 3 non va Crotta con rimbalzo Perin con l'apertura sceglie di non correre Rimini adesso chiama testa Perin sotto subito Azic che non stava proprio guardando il suo compagno di squadra infatti il passaggio era perfetto perché è andato contro il corpo di Azic vuol dire che se Azic avesse guardato la palla l'avrebbe ricevuta però effettivamente questo altro errore di ingenuità fai un taglio ma non guardi minimamente la palla probabilmente la interpreto io così Azic voleva andare a portare un blocco cieco per Crotta per farlo uscire dall'altra parte questa è la mia unica interpretazione altrimenti non ha senso che non stesse guardando il pallone mi è passo così sono d'accordo con te intanto esce Azic rientra Aglio Aglio che si prende cura di Spizzichini proprio ora con la palla Spizzichini in frazione dei passi e time out in campo sul 31-23 non è il massimo vantaggio perché il massimo vantaggio è stato un più nove ma è un 31-23 molto diverso abbiamo detto da quello che era il 24-20 dal primo quarto questo è un 31-23 di difesa si è un 31-23 di difesa ed è un 31-23 dopo che sono passati ulteriori minuti in cui ti aspetteresti che fisiologicamente una delle squadre più forti del campionato prenda il sopravvento sulla seconda squadra più giovane del campionato e quindi mettiamo altri indizi e ne aggiungiamo un altro ricordiamoci sempre di quei famosi tre tiri liberi di Stanic è comunque un punteggio che tuttora è generoso per Rieti per quello che abbiamo visto eh sì perché senza quei tiri liberi tre tiri liberi saremmo addirittura più undici col plurale che è inteso come Krebs naturalmente 31-23 invece in questo momento appena passata la boa di metà secondo quarto rimangono 4 minuti e 59 secondi per l'esattezza da giocare nel secondo periodo di gioco rientra in campo Perimini il quintetto formato da Perin Chiera Tassinari Aglio e Crotta per Rieti ci sono Iannone Granato Rosignoli Spizzichini e Giampaoli e il possesso di Rimini nella metà campo difensiva Chiera rimettere e Tassinari ora ricevere a Tassinari Krebs sicuramente Rieti anche un pochino pigra qui negli aiuti difensivi perché il Chiera dopo una finta di tiro da tre punti ha deciso di andare dentro ha subito un paio di contatti e lì probabilmente la difesa si è fidata invece Chiera è arrivato fino in fondo perché è comunque un giocatore che i contatti li tiene e i Krebs sono anche primi a rimbalzo molto svegli il giocatore riminesi e dopo l'uno su due i liberi con secondo sbagliato da Chiera Perin sbaglia Crotte molto attivo rimbalzo ad attacco ma la palla è recuperata da Iannone che commette un'evidente infrazione rimesse di Rimini i secondi sono 24 ovviamente per l'attacco Tassinari alla rimessa a ricevere Perin Testa chiama Perin va sul blocco di Aglio ancora Perin col palleggio rotta al centro dell'aria molto profonda sbaglia il gancio fallo in attacco di Rosignoli di Spizzichini anzi e Tassinari ha volato in maniera evidente no questo guarda fortunatamente ero con gli occhi su Tassinari qui proprio Tassinari era in anticipo netto Spizzichini si è appoggiato l'ha fatto volare via un fallo difensivo evidente su Tassinari che va a ottima posizione rimessa dal fondo per Rimini con 24 secondi e Perin a rimettere ora Chiera Chiera non la dà aglio la dà ora oltre l'arco penetra aglio qualche pasticcio perde palla Feliciangeli la ruba con tanta esperienza 32-23 palla per Rieti Giampaoli va dentro Iannone da tre punti entra esce rimbalzo di Rosignoli che è stoppato da Crotta corre in basso e Crotta domina lì sotto stoppato e rimbalzo ora Perin va dentro Perin viene commesso fallo ed è antisportivo perché al di là di toccare la palla ha preso nettamente il brazzo il giocatore lanciato a rete per mutuare il gergo calcistico è andato sul polso tirandolo giù mi sembra un fischio assolutamente sacrosanto gli arbitri non guardano Giampaoli e qui si rischiava ha rischiato anche di beccarsi un tecnico però era assolutamente un fallo da fischiare così e altra cosa che non possiamo non notare come avevamo già detto contro Giulianova la differenza clamorosa a mio avviso in questa squadra la fa il fatto di aver recuperato pienamente Chiera perché dà una rotazione sulle guardie e anche sulla possibilità di variare il modulo 2-3 piccoli adesso per esempio Coach Mladenov arriva con i 3 piccoli che prima i Krebs non avevano e questo fa tutta la differenza del mondo 1-2 anche per Perin dopo l'1-2 di Chiera in precedenza Fatostak Rimini arriva al massimo vantaggio di più 10 sì 33-23 ma c'è anche il possesso dopo il fallo antispartivo fischiato Giampaoli Perin Cercolani cerca l'uscita di Tassinari la trova adesso in punta non trova la pala sotto per Crotta Tassinari consegnato per Chiera ora Crotta porta un imbalzo un blocco che alla fine non porta frutti il tiro da 3 di Chiera non va a bersaglio il rimbalzo è di Rieti dall'altra parte Stani subito che è prontamente rientrato la palla sotto con Crotta ancora molto attivo l'ultimo tocco dice l'arbitro posizionato sulla linea di fondo è di Feliciangeli cambio rientra Biordi per i Krebs esce Crotta un po' di riposo per lui grande partita fino a questo momento stavo contando che Crotta con 6 punti 5 rimbalzi e varie altre statistiche ha 9 di valutazione se non ho contato male è un 9 di valutazione assolutamente bugiardo per quello che dicevi prima che certe cose come la sua presenza difensiva e le parabole che ha cambiato non fanno statistica e invece un atteggiamento e una testa dentro la partita come non li avevamo mai visto sinceramente non a questo livello di presenza negli intangibili molto bene Crotta qui fallo invece fischiato a Biordi sotto canestro tutta l'esperienza di Feliciangeli che ha più di 20 anni più di Biordi e non per scherzare ha proprio più di 20 di più primo libero di Feliciangeli lo segna 33 a 24 segna anche il secondo 2 su 2 6 su 6 finora dalla lunetta per Rieti che cerca di alzare la sua difesa Rimini passa bene la metà campo e ora cerca di attaccare con 15 secondi sul cronometro e 24 per in Cercolani per Tassinari c'è la palla sotto per Biordi che va a spalle a canestro poi linea di fondo Mano Mancina altro gran canestro di Igor Biordi che ha commesso fallo dall'altra parte ma questo è un gran canestro per lui sì e con le solite cose che gli conosciamo cioè la grande forza nel subire i contatti e la grande capacità nonostante il mismatch che spesso gli capita di dover affrontare contro giocatori che sono più alti più grossi di lui nel coprire la palla quando va a tirare Stanic ancora più 10 rimini a 2.15 dalla fine del secondo quarto sulla zona il tiro da 3 di Annone sbagliato il rimbasso molto attivo di Perin che è arrivato da 4 metri di distanza da una mano il suo rimbasso difensivo fondamentale con la zona Tassinari Cercolani non si fida del tiro ora sì dopo due palleggi non entra però in ritmo e Iannone prende il rimbasso la porta direttamente dall'altra parte cerca di andare fino in fondo Iannone sbaglia il tiro fallo fischiato abbastanza misterioso vediamo a chi fallo di Cercolani secondo me qui c'è un errore nel senso che se il fallo è di Cercolani non possono essere due tiri liberi è rimessa perché il fallo è molto prima del terzo tempo o dai fallo a Tassinari due tiri liberi ma era evidentemente inesistente perché Tassinari non ha proprio toccato l'avversario o se è fallo di Cercolani non sono tiri liberi Iannone adesso la lunetta segna due su due per Iannone esce Cercolani rientra Azic ancora la pressione alta di Rieti Azic perde palla maniera indegna e poi la perde quasi anche Rieti 35-27 prima piccola ingenuità della squadra di casa sulla pressione alta di Rieti Stanis blocco di Rosignoli su cui si stampa per un attimo chi era però rimane in marcatura sul numero 7 in maglia bianca Iannone Granato ancora contro la zona di Rimini Stanis da due punti la mette aveva un piede sulla linea da tre canestro evidentemente da due punti 35-29 è il secondo canestro dal campo solamente per Rieti nel secondo periodo sì altra bella notizia altra notizia inaspettata che coach Mladenov chiama un time out sul più 6 perché i Krebs hanno subito un parzialino cosa che non era mai successo in questa partita credo un paio di coppini voleranno all'indirizzo del buon Azic che è un giocatore che ha degli istinti incredibili in senso positivo e anche però dei momenti di pollaggine come gli abbiamo visto fare nell'occasione dell'ultima palla persa che ovviamente ne fanno ancora un giocatore non del tutto pronto soprattutto in certe fasi magari un po' più delicata della partita i due arbitri chiamano le squadre c'è da giocare ancora 85 secondi nel secondo periodo vi ricordiamo il punteggio 35-29 per Rimini Rieti rientra con Rosignoli Stanic Feliciangeli Iannone e Granato per Rimini ci sono Perin Chiera Biordi Aglio e Tassinari la palla per Rimini dopo il canesto di Stanic da due punti ancora pressione alta Perin va da bene Aglio questa volta che si posiziona nel punto giusto del campo per ricevere sta per combinare un pasticcio poi recupera palla ancora Perin col palleggio dall'altra parte per Chiera manca il recupero Feliciangeli ma ci sono solo 7 secondi per l'azione d'attacco dei Krebs è rimessa dal fondo Chiera esce alto ad aiutare Rosignoli poi Chiera da due punti sbaglia rimbalzo difensivo di Feliciangeli Stanic con la palla nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo Feliciangeli è stoppato dal ferro Rosignoli poi segna col fallo addirittura sta andando un po' tutto male anche a livello di piccole cose in questo fine del secondo periodo per Rimi dopo che era andato tutto bene in precedenza 35 a 31 a 41 secondi libero superventare per Rosignoli con Rieti che si posiziona già per la pressione non è valido con tutta evidenza questo libero per l'invasione di Iannone 0 su 1 per Rosignoli qui 40 secondi 35 a 31 il parziale si arresta sul 6 a 0 per questo momento dopo il più 10 adesso più 4 per Rimini Aglio Perin Chiera contro la zona Aglio palo sotto per Biordi non tira va a prendere il centro area ancora con la mano Mancina sbagliato Rosignoli per Stanici 18 secondi per l'attacco di Rieti sono gli ultimi di questo secondo periodo niente fallo chiama Mladenov Mastanis va dentro e Chiera mette la mano fischiato fallo si fallo evidente e netto in precedenza abbiamo visto Biordi in versione Kevin McHale non molto apprezzato da Cosmladenov perché 2000 palleggi per andarsi a prendere il post basso ovviamente un tiro molto forzato Rieti adesso concede un libero ma ovviamente il parziale con cui si andrà a riposo sarà sicuramente favorevole ai laziali perché i Krebs hanno costruito molto di più addirittura 0 su 2 ultima azione deve riuscire a tirare Perin invece non è così aveva tentato comunque un assist che ci stava perché era proprio l'ultimo secondo del quarto si arresta a 6 il parziale positivo per Rieti 35 a 31 alla fine dei primi 20 minuti di gioco a favore di Rimini noi ci risentiamo per il secondo tempo suona la sirena quella di prova di inizio periodo e quindi tutto pronto per ricominciare al di là di un curioso cronometro che per adesso è fermo quota 15 non penso si giocheranno periodi più lunghi di quelle NBA adesso si ritorna a 10 lo descriviamo se non avete l'opportunità di vederlo in questo momento fatto sta che si ricomincia dal 35 a 31 Rimini dopo un primo quarto splendido in attacco e un secondo altrettanto efficace in difesa soprattutto si ricomincia col più 4 su una delle più serie candidate alla promozione come Rieti in questo momento secondo in classifica terza solo per una partita giocata in meno ma comunque nettamente tra le squadre più attrezzate del campionato subito ruba palla è un fallo antisportivo che non ci stava a parere mio perché Tassinari era oltre la linea da questo punto di vista sono d'accordo con te però è proprio andato a prenderlo per i fianchi non ha neanche provato a giocarlo alla palla quindi io mi sento di convalidare questo fischio tant'è che di proteste se ne sono viste veramente poche ed eccolo qua il primo tiro libero segnato da Iannone segna che secondo il giocatore laziale è rimesso da vedere a campo proprio per lui che è in campo con Stanic Feliciangeli Rosignoli e Granato si è visto spoco Spizzichini dopo l'inizio per Rimini invece Cercolani per in Tassinari Chiera e Crotta Stanic con la palla Feliciangeli sotto canestro duello d'esperienza con Tassinari lo fa saltare segna e subisce il fallo e dal primo possesso d'attacco Riete riesce a esprimere quattro e forse anche cinque punti e cioè pari e forse sorpasso subito voce grossa squadra ospite bravo Feliciangeli qui a sfruttare il mismatch perché Tassinari aveva difeso anche piuttosto bene prima del fallo ma contro un giocatore che abbraccia alzate gli renderà almeno credo una ventina di centimetri va con libero Feliciangeli lo sbaglia rimangono quattro i punti segnati in questo possesso da Rieti il pareggio però è ancora tale naturalmente 35-35 palla sotto per Crotta che la controlla in maniera poco efficace Perin la può gestire Crotta ancora Perin deve inventare qualcosa perché mancano quattro secondi complicata questa palla sotto avrebbe fatto meglio cercare un tiro il piede e il possesso di Rieti subito Batman in campo visto qualcosa che non andava Cosmladenov e fa entrare Davide Meluzzi al posto di Perin Sì perché evidentemente adesso in attacco contro la zona Rimini sta facendo fatica in realtà l'ha fatto anche nel secondo quarto il secondo quarto ha finito 11 pari quindi diciamo hanno fatto fatica entrambe le squadre in attacco ma evidentemente in un clima in cui si gioca magari a spizziche bocconi contro difese che concedono poco ovviamente ha vantaggiato la squadra che ha più qualità complessiva sotto la palla buon servizio per Felice Angeli che sbaglia il primo tocco non il secondo e contando anche il 6 a 0 con tanti liberi sbagliati con il quale è stato concluso il secondo periodo Rieti a 12 a 0 in questo momento Chiera Meluzzi palla persa da Rimini 12 a 0 Rimini era più 10 35-25 adesso è a 35-37 e i numeri qualche volta hanno ragione eh sì d'altra parte lo sapevamo insomma che non poteva essere una partita dominata dai Krebs per 40 minuti resta da vedere se la squadra dimostrerà di essere definitivamente maturata restando dentro al match in un momento in cui Rieti sembra poter scappare via time out in campo naturalmente in questo momento 4 di Feliciangeli 2 di Annone per aprire questo terzo periodo di gioco per la squadra ospite è davvero dura adesso Marimini almeno a livello di convinzione sembra esserci è chiaro che è il momento più complicato della partita ma non ci deve essere pressione perché il tipo di avversario è talmente complicato già dall'inizio che la tensione almeno quella non deve esistere adesso però possesso ancora Rieti con Stanic per gli Annone si ritorna a giocare Stanic chiama il gioco contro la zona ancora Feliciangeli la muove bene Rieti e segna con gli Annone 4 di Annone 4 di Feliciangeli non smette di segnare Rieti che da metà secondo periodo ha anche alzato la difesa Chi era con la palla ancora contro la zona anche da questa parte fallo fischiato a Rosignoli salva un po' le cose per questo attacco Krebs che non è stato continuo secondo fallo per Rosignoli rimessa dal fondo per Capitan Tassinari non riceve Cercolani lo fa adesso Chi era Meluzzi ancora contro la 2-3 Tassinari in punta Cercolani Meluzzi deve tirare da due punti segna Davide Meluzzi e interrompe il partito di 14-0 servivano come il panno questi due punti di Davide Meluzzi 37-39 la partita è tutta lì naturalmente ancora ancora la zona 2-3 Rimini difesa a specchio in questo momento Granato da 3 sbagliare in basso di Tassinari possesso del pari per i Krebs Cercolani ha da in angolo Meluzzi forse doveva tirare anche in questa occasione ma era il primo passaggio dell'azione Cercolani va dentro Chi era ha rifiutato un paio di buoni tiri Rimini adesso Chi era ne è uno molto più complicato si butta addosso all'avversario chiama i due tiri liberi Ma questa è una furbata di quelle veramente che fanno sì che si sprechino luoghi comuni sull'astuzia degli argentini in situazioni di questo tipo però veramente Chi era ha preso due tiri liberi in una situazione offensivamente gestita nella peggior maniera possibile Davvero incredibile come si è buttato d'osso all'avversario senza dubbio l'arbitro a fischiare i due tiri liberi Saniel Prima Adrianchiera pronto Azic a cambiarlo se segnerà il secondo eccolo qua e Shekiera entra Azic si ritorna 39 pari con questo 4-0 fermato da Meluzzi e Chiera Stanic quando c'è lui è una riete diversa ha preso il parziale negativo anche in sua assenza nel secondo periodo la squadra laziale Iannone per Feliciangeli in angolo per Stanic ora sale Stanic Granato Iannone non ha prodotto nulla Rieti però Iannone si alza da 3 sbaglia rimbalzo toccato da Tassinari recuperato da Rosignoli 14 secondi Feliciangeli da 3 punti sbaglia ora rimbalzo di Tassinari è completato porta palla anche dall'altra parte Federico Tassinari e chiama lo schema Perin Arresta il palleggio Crotta Meluzzi Meluzzi da 3 la palla per un attimo sembrava poter entrare nonostante il secondo ferro palla 2 palla per Rieti dice il freccione ancora 39 pari sono giocati nemmeno 4 minuti di terzo periodo Feliciangeli con la rimessa per Stanic differenza di attacche qui con Meluzzi ma Meluzzi gliel'ha fatto toccare sul ginocchio la palla di Rimini la tocca a Meluzzi la palla finisce sul ginocchio di Stanic e fuori duello vinto dal più giovane dei due e di tanto anche qui si levano anche le urla dei tifosi del Flaminio e anche giustamente perché passato quel momento di difficoltà Rimini comunque per il momento ha reagito sì assolutamente volevamo un segno l'abbiamo avuto è corto il tiro di Azic però che i Krebs sono dentro la partita l'abbiamo visto in queste ultime azioni Stanic cerca una grande palla sotto che però non è concretizzata da Feliciangeli che non controlla qui il merito è ancora una volta di Crotta non verrà segnata come palla recuperata ma è Crotta che l'ha praticamente deviata spingendola sulla gamba di Feliciangeli e quindi ancora una volta una giocata intangibile di Crotta che non farà non farà valutazione io credo che Azic non sia stato in campo per chi era neanche 40 secondi qui non è un cambio di rotazione prevista perché è rientrata per lo stesso giocatore e adesso Crotta esagera eh sì bravissimo però Chiera che dimostra ancora grande freddezza perché era arrivato praticamente sullo smile una zona da cui è facile in golosirsi andare a cercare il tiro invece ha passato al compagno meglio piazzato per un canestro che riporta i Krebs in avanti a conferma di quanto stavamo dicendo e adesso Chiera va anche in zingarata che è la sua specialità e Chiera in campo aperto e adesso come non lo era stata nel primo quarto perché nel primo quarto un canestro da una parte un canestro dall'altra qualche mini parziale di Krebs nel secondo poi il 14 a 0 per Rieti e adesso l'8 a 0 per Rimini che sicuramente Rieti non si aspettava magari anche molti spettatori presenti al palazzo non si aspettavano nelle dimensioni della reazione la reazione la potevamo mettere in conto che potesse produrre un 8 a 0 però è cosa diversa e questo sono assolutamente d'accordo con te e ti dirò di più che sinceramente per il basket complessivo che hanno giocato i Krebs in questa stagione lo ribadisco lunga parte del campionato senza Chiera e non è una cosa da poco però in situazioni di parziale di 12 a 0 noi eravamo abituati alla depressione più totale che poi chiudeva il match nei primi tempi invece la cosa straordinaria di questa serata è che i Krebs stanno giocando una grande pallacanestro e la stanno giocando senza timore riverenziale anche ribaltando un parziale pesante che è una cosa che avevamo visto magari contro squadre di medio-bassa classifica contro una delle forze del campionato non solo non l'avevamo mai vista ma non ce l'aspettavamo nemmeno ed è chiaramente una grande notizia ottimi Krebs dunque qualche fischio all'indirizzo dello staff ospite che si sta lamentando col duo arbitrale ma presto ricomincerà a scorrere il cronometro Rimini ha rimesso in campo Chiera naturalmente con Meluzzi Perin Tassinari non cambia nulla per Rieti ci sono Iannone Stanic Granato Felicangeli Rosignoli Stanic ha passato a metà campo Iannone Granato ancora contro 2-3 Rosignoli in angolo ancora Granato cerca di muoverla Rieti produce poco Stanic sotto per Rosignoli fallo fischiato a Chiera sul taglio centro area poco produttivo di Felicangeli la tua opinione no no io non l'ho visto l'hai visto bene tu io pensavo e mi sembrava assurdo che fosse stato fischiato a vantaggio di Rosignoli sul raddoppio Tassinari Crotta per cui stavo guardando quella situazione e hai visto benissimo tu 14 secondi per l'attacco Iannone non tira Felicangeli a spazio Stanis ma non tira neanche lui qualche tiro rifiutato tocco però il rimbazzo è di Rieti che ancora altri 14 secondi Stanis Felicangeli dentro Felicangeli la palla per Granato da 3 Granato sbaglia rimbazza quasi per un attimo di Tassinari poi Rosignoli la appoggia canestro qui fa valere i centimetri poco da fare si interrompe il parziale di Rimini ma quando i centimetri sono tali la differenza è tutta lì si tra l'altro Rosignoli dicevamo è uno dei pochi giocatori di Rieti a comparire nella statistica individuale per congrani balzista palla clamorosa di Perin per Crotta e Crotta e Perin si trovano veramente molto bene però questo non era un passaggio facile da leggere e Crotta continua a essere un fattore clamoroso Stanis la muove per Iannone non abbandona la 2-3 Mladenov Iannone sotto per Felice Angeli mette le mani Adrian Chiera per Chiera è il terzo fallo non ci vuole un terzo fallo del genere rientra intanto Giampaoli dopo il fallo antisportivo del secondo periodo entra per Granato Chiera per il momento rimane in campo devi fare incontri anche con quei tre falli coach Mladenov Iannone rimettere Felice Angeli muove il perno trova bene Rosignoli dimenticato da tutti sulla zona in maniera troppo banale però Rieti diciamo nel secondo tempo in particolare la cosa che sta facendo meglio è attaccare i mismatch dentro l'area praticamente i canestri fondamentali della squadra la razziale li hanno insegnati tutti Felice Angeli e Rosignoli proprio in situazioni di questo tipo cercate molto bene intanto sul cubo dei campi dopo una vita Spizzichini Perin Tassinari Chiera è buono il tiro tocca il ferro rimbalzo da chi è recuperato è recuperato da Crotta perché finisce sul ginocchio di Rosignoli Felice Angeli deve lasciare spazio a Spizzichini cambio sotto canestro giocatori diversi non per il ruolo ma per carattere di identità e tipo di tecnica Perin rimettere per Meluzzi va in punta per Chiera che decide di andare in uno contro uno su Iannone e poi scaricando lascia andare Meluzzi ma ci sono solo cinque secondi per l'attacco cinque secondi per l'attacco Rimini Crotta la riceve deve tirare lo fa tocca il ferro rimbalzo del più piccolo in campo Davide Meluzzi che la dà con una magia sotto questa è la giocata della partita per il rimbalzo e poi per l'assist da terra assolutamente e sottolineiamo una cosa che ha dispetto del fisico Meluzzi ha un grandissimo istinto a rimbalzo anche a livello di giovanili è un giocatore che si aggira mediamente sui cinque rimbalzi a partita perché si butta sulla palla con una voglia famelica si butta indietro Giampaoli non segna rimbalzo di Tassinari Perin adesso in transizione Perin deve andare dentro cercando di infaschiare la zona ancora un giocatore di Krebs a terra Crota si lamenta il rimbalzo è di Rieti c'è anche il time out adesso in campo ma è più 4 per i Krebs ed è il più 4 con il quale le squadre erano andate a riposo 12 pari si è tornato a sognare abbastanza non credevamo sinceramente che potesse rimanere a più 4 dopo che ha aperto soprattutto con l'otto a zero di parziale di terzo periodo Rieti la reazione dei Krebs l'abbiamo già ribadita è stata ottima adesso è vero la partita si gioca sul filo Marimini la comincia con una dose che ha meritato fino a questo momento si assolutamente la cosa migliore è quella che comunque i Krebs sono rimasti dentro la partita e la stanno facendo in maniera sostanziosa e sostanziale è una grande notizia perché francamente ci racconta di una squadra in crescita una squadra che tecnicamente è una squadra migliore di quello che dice la sua classifica e invece come esperienza e ahimè troppo spesso come atteggiamento è una squadra che aveva mostrato delle lacune e che adesso un po' alla volta col gran lavoro fatto da Coach Maladeno nelle ultime settimane e lo dobbiamo ribadire per forza perché sarebbe ingeneroso nei confronti di chi ha picciato Coach Maladeno con rientro a pieno regime di Adrian Chiera sono progressi che ci stanno vedendo rimesso di Rieti 47 a 43 il punteggio a 2.38 dalla fine del terzo quarto alza la difesa Rimini Stanic per Giampaoli per Rosignoli e poi Annone Spizzichini Annone Stanic ha mangiato parecchio tempo Giampaoli deve tirare da tre sbaglia toccata e recuperata da Crotta Stefano Crotta corre in basso Perin con la gestione dell'attacco sotto per Crotta sbagliata palla persa per i Krebs Stanic cerca la transizione Spizzichini Giampaoli ancora Stanic la muove bene adesso anche se sono un quarto di campo Rieti Spizzichini sotto per Rosignoli il gran canestro qui tutto merito dell'attacco 6-7 tocchi tutti molto veloci ma guarda ti confermo guardavo adesso il play by play che dei 14 punti di Rieti nel terzo quarto 2 li ha segnati Feliciangeli e Rosignoli tutte da situazione di mismatch o di palla dentro gran canestro di ignoranza di parmadillo corattato di Tassinari però appunto la differenza per Rieti la stanno facendo i lunghi in questo momento se Rieti è dentro la partita è perché ha trovato bene i mismatch dentro l'area Giannone Gianpaoli ancora a muovere la palla un classico attacco da 2-3 poco aggressivo in questo momento sbaglia Gianpaoli ancora testimonianza del fatto che i piccoli per Rieti stiano producendo poco rimbalzo il Crota e poi Perina adesso a gestire l'attacco con Tassinari che riesce a ricevere si cerca la palla per Crota non lo si dà adesso Meluzzi col palazzo vivo Davide Meluzzi Perin 4 secondi per l'attacco 3-2 Perin cerca un improbabile passaggio sotto a Gianpaoli recupera e subisce fallo fallo di Meluzzi è un fallo che peraltro dà anche due tiri liberi perché è in bonus Rimini rienta Granato per Jannone e per Rieti e Gianpaoli dalla lunetta per cercare di dimezzare lo svantaggio in questo momento 49-45 quando siamo entrati nell'ultimo minuto di terzo periodo differenza differenza che farà di Perin un ottimo giocatore o un giocatore normale è il coefficiente assist palle perse è un giocatore che si piace molto come passatore ne ha bendonde perché è un grande passatore ma rischia a volte di andare fuori giri e oggi ha sì 4 assist ma anche 6 palle perse cosa che gli capita a volte e quindi questo è assolutamente il coefficiente che lui deve cambiare per cambiare la sua carriera Meluzzi da 3 sbaglia rimbalzo recuperato da Crotta 10 secondi l'ultima palla di Krebs nel terzo periodo Cercolani toccata da Stanic oltre la linea laterale sono rimati 6 secondi e un decimo e Mladenov rimette Azic Perin per questo possesso d'attacco toglie Crotta e Meluzzi piccolissimi Krebs per cercare un tiro veloce su 49 47 Tassinari Cercolani in terzo tempo la lunetta sbaglia non c'è più tempo per fare nulla 49 47 era 49 47 rimane questo vuol dire che Rieti si è fatta preferire ma solo per due punti nel terzo periodo ed è come dicevamo prima un segnale dalla reazione di Rimini e adesso la parte più difficile concretizzare col finale una gara che hai potuto giocare con la testa sgombra per tre quarti ma adesso vedi che è lì alla portata e devi anche fare questo ragionamento sì qui diciamo abbiamo chiesto diverse prove di maturità alla squadra questa sarebbe proprio la laurea diciamo che di esami in questa sessione ne sono stati passati parecchi quello che chiedi tu è l'esame degli esami quindi direi la laurea per capire se i Krebs sono una squadra che da domani può fare altri pensieri più sereni sul campionato e magari provare a toglierci qualche soddisfazione vediamo cosa succederà curiosità anche per capire se entrerà subito con un quintetto solido con quelli che hanno più minutaggio Mladenov continuerà le rotazioni per aspettare un momento migliore della partita anche perché è molto equilibrio fino a questo momento potrebbe anche indurre a continuare questo tipo di rotazioni tanto Stanis c'è per gli ETI ma di quello avevamo pochi dubbi solo momenti di riposo brevi per lui in questa partita con lui c'è Rosignoli che non è quasi mai uscito poi Spizzichini Granato e Gianpaoli devono rientrare anche i Krebs tra poco dopo le ultime indicazioni di Mladenov deve ancora suonare la sirena ma il 49-47 è lì sul tabellone a dimostrare tutto ed è una partita che naturalmente nei quarti centrali ha preso pur continuando in estremo equilibrio ha preso la via del punteggio basso nel 24-20 nel primo periodo non era reale questo sì rientra anche Rimini adesso con Cercolani per Intassinari Chiera e Crotta Quintetto subito molto solido al di là delle inevitabili cambi che ci saranno anche nel quarto periodo Perin a rimettere Possesso Rimini 49-47 10 minuti da giocare Cercolani con la palla va a passare la metà campo contro Stanis poi la passa a Perin trova Tassinari sotto si gira e tira il tasso segna due punti molto belli da vedere Tassinari 5-5 dal campo con 1-1 da 3 una grande partita per lui più 4 51-47 per i Krebs Spizzichini per Granato che finta il passaggio Pintetto da 3 altro toccato da Crotta poi completato il rimbalzo da Chiera più 4 possesso adesso per i Krebs Chiera non c'è l'uscita di Tassinari anticipato da Spizzichini allora Crotta porta un blocco si tira dietro Granato Chiera va ad appoggiare il tabellone è un tiro molto complicato l'ultimo tocco favorisce Stanis scusate Stanis semina avversaria e poi la passa a Granato il fallo di Perin che evita comunque un tiro facile a Riet questo è un buonissimo pallo chiaro che Riet doveva far canestro ma era una situazione assolutamente di inferiorità numerica quindi pallo speso bene 5 tra Stanis e Mladenov intanto rimesso di Granato per Giampaoli che ha troppo spazio da 3 ma Giampaoli non ha mira stasera sbaglia ma il rimbalzo è di Spizzichini e anche Spizzichini da sotto continua a fare quello che faceva Felice Angeli cioè dare tanto tanto fastidio a loro e a Rosignoli spina nel fianco fino a questo momento Cercolani Tassinari sotto per Crota gli viene sporcata la palla poi recuperata da Stanis con grande prontezza corre Stanis si arresta la palla sotto a Spizzichini si fa spazio stoppata sul polso di Stefano Crota si bravo comunque Crota a rientrare dopo un errore è chiaro che una persa ci sta visto che Crota ha comunque giocato una partita estremamente positiva però bravo comunque a cercare di rientrare in difesa il più velocemente possibile per andare a spendere questo fallo contro Spizzichini che come dicevi poco fa continua il discorso di qui sopra Rieti è appoggiato completamente sui lunghi eppure essendo una squadra che ha dei signori tiratori su tutti Granato che in stagione tirava il 40% e stasera ha segnato solo il primo tiro che ha provato se non sbaglio se non ricordo male a 1 su 7 e quindi Rieti veramente appoggiata esclusivamente sui lunghi e intanto Spizzichini va a pareggiare 2 su 2 dalla runetta palla recuperata da Rieti Granato da 3 e segna ma l'avevi chiamato beh questo era ovvio peraltro messo in ritmo da una situazione di gioco in cui normalmente si viene sempre puniti cioè una persa a metà campo e peccato perché è l'ennesima persa ed è quello che sta adesso penalizzando i Krebs che si trovano sì sotto di 3 ma al di là di tutto insomma hanno 13 palle perse e credo negli ultimi 5 minuti fra fine del terzo quarto e inizio del quarto sono 3-4 se non 5 palle perse che sono quelle che hanno permesso a Rieti di rimanere nel match 51-54 dunque a 8-20 dalla fine della partita spazio per questo time out e per vedere che come era facilmente preventivabile da una parte Rieti ha tanti giocatori che vanno vicini o superano la doppia cifra quelli che la superano fino a questo momento sono Rosignoli con 12 e Stanice con 10 che oltre a produrre per sé ha prodotto tanto che per gli altri per Rimini ci sono gli 11 di Tassinari i 10 di Chiera e i 10 di Crota Rimini con la palla sul 51-54 Cercolani Tanto è rientrato Biordi per Crota Ancora Cercolani Tassinari Stanice adesso su di lui in questa zona 2-3 Meluzzi con difficoltà in palleggio Poi palla per Chiera da vicino gli viene spizzata scadono i 24 la palla non aveva toccato il ferro Giampaoli con la rimessa e 3 di vantaggio per chi attacca Rieti Granato zona da una parte zona dall'altra adesso Giampaoli sotto per Rosignoli Granato da 3 e segna ancora si è svegliato nel momento migliore per i suoi peggiore naturalmente per Rimi adesso 10-0 in pochissimo tempo per Rieti che è passata dalla meno 4 a più 6 fallo evidente qui di Granato ma è un fallo che non produce nulla perché il primo fallo di squadra nel quarto periodo rientrano per i necrota ce n'è bisogno squadra difensivamente ne sta prendendo tante 4-0 di Spezzichini poi 6-0 con le due tripli di Granato totale 10-0 in nemmeno due minuti Cosmaldenov sta appunto rimproverando in maniera molto buonaria peraltro e Cercolani proprio per l'errore di difesa contro Granato nella seconda tripla in quella di poco fa perché Cercolani aveva le braccia basse e quindi comunque Granato che è un giocatore dal caricamento molto rapido non ha avuto problemi a tirare sbaglia Meluzzi la parola recuperata di Rieti Stanic ancora col polegio vivo dietro la schiena per Spezzichini quasi passi non fischiati poi Giampaoli da 3 13-0 Rieti 9 di vantaggio partita che si sta spaccando e adesso è il momento più difficile nettamente trovare qualche punto da qualche parte cercare di continuare a tenere duro in difesa anzi riprendere a tenere duro sbaglio intanto Tassinari un tiro frettato rimbalzo di Granato chiama a testa Stanic chiamato il fallo Meluzzi dopo qualche sbracciata terzo di squadra che Giampaoli avevano tirato con bassissime percentuali sbagliando anche tiri aperti e quindi era naturale che le avrebbero un po' aggiustate le percentuali non è un caso che le abbiano aggiustate nel momento in cui l'intensità complessiva dei Krebs è calata perché comunque e questo probabilmente deriva un po' sia da fattori tecnici sia da fattori di esperienza i Krebs sono una squadra che se comincia a perdere pallone e non girare molti in attacco fa più fatica anche in difesa e non viceversa 51-60 di tempo ce n'è è anche tanto oltre 6 minuti 6-23 per l'esattezza ma è il trend che è da invertire perché adesso Rieti cavalca l'onda di un super parziale parziale di 13-0 addirittura con tre triple consecutive due di Granato e una di Giampaoli ed è anche in possesso del pallone con 14 per l'azione d'attacco Giampaoli per Rosignoli la riprende Stanic per un attimo Rosignoli sembrava non poterla toccare altro fallo fischiato a Meluzzi il quinto deve uscire Rietra Cercolani chiama la sbracciata ma più per difendere Meluzzi che altro Madenov sì esatto per difendere Meluzzi perché Meluzzi aveva le braccia basse ed era assolutamente fallo battuto dal primo passo di Stanic l'ha toccato ed è un fischio sacrosanto Giampaoli per Stanic da due punti e segna non è una tripla solo perché qualche centimetro di scarpa stava pestando la riga segna anche Stanic 15 a 0 il parziale Tassinari chiede da tre esita e sbaglia forse proprio per quell'esitazione Stanic con la palla va via in palleggio facile poi Giampaoli adesso ragiona Rieti Stanic addirittura crotta su di lui sul cambio Spizzichini non va a bersaglio ma il rimbazio di Rosignoli è facile poi si palleggia su un piede ed è una pala persa frustrazione di capitano Tassinari da un calcio al gonfiabile della pubblicità intanto esce Crota rientra Bjordi esce Chiera rientra Azic sì parziale di 15 a 2 in questi 4 minuti e mezzo è un parziale molto pesante che evidentemente ci sta per quello che si è visto in campo credo che la frustrazione di Tassinari derivi soprattutto dal fatto che rischi di andare a perdere con un parziale importante una partita che per 30 minuti non dico che hai dominato ma poi tutto sommato sì per quella che è la differenza in classifica e il roster fra le due squadre l'hai dominata perché sei stato avanti per la maggior parte del tempo facendo vedere anche grande pallacanestro e quindi il parziale intanto una roba inguardabile in questo caso di Cercolani il parziale è un parziale che dispiace perché non premia quello che si è visto da parte dei Krebs e non segue proprio la sostanza della partita ma segue più gli episodi e qui in Manadero si arrabbia con Azic dopo l'anticipo ai Tassinari e Azic non si era accorto che la palla stava viaggiando lì vicino rientra Chiera per Cercolani dopo il picciore viaggiatore che aveva fatto partire in precedenza Giampaoli con la rimessa per Stanic palla anche qui dietro la testa e poi il movimento di Rosignoli e i due punti Stanis sta inventando i lunghi stanno concretizzando 17 a 0 il parziale con i due di Rosignoli Tassinari ancora col palleggio adesso i Krebs si inventano il tasso segna l'altro canestro del quarto periodo il primo l'aveva segnato lui in apertura Tassinari da tre punti adesso è meno dieci c'è ancora tempo quattro minuti e mezzo Rosignoli spalla canestro contro Biordi si prende la linea di fondo poi gira il perno la palla per Giampaoli è in fiducia Rieti ma sbaglia prende per ora in basso l'attacco Spizzichini passi di Spizzichini break positivo per Rieti tutti con le mani nei capelli mani sulla testa per il coach eh sì la partita è lunga per essere quattro minuti e venti però effettivamente anche quest'ultima azione testimonia come Rimini non ce la faccia fisicamente ha sempre un mismatch che ci sia in campo Tassinari del numero quattro che ci sia Biordi comunque troppo a fatica a contestare quelle situazioni e nel primo tempo era andata bene perché la libertà lasciata sul perimetro non aveva non era stata punita sufficientemente dagli esterni di Rieti quando gli esterni di Rieti hanno cominciato a far canestro la coperta era corta o di qua o di là Perin a Konasic la riprende Perin da tre a sinistra il rimbalzo di Chiera nella spazzatura fallo subito da Chiera il fallo di Stanic per Stanic è il secondo fallo rientra Feliccianzi in un po' di esperienza per gestire questo finale e c'è Spizzichini che si lamenta sta in campo Rosignoli 14 secondi per l'attacco di Rimini la rimessa favorisce Chiera sotto per Biordi ancora Chiera a buttarsi nella tornara sbaglia Chiera uno contro mille Rosignoli Stanic Giampaoli ragiona un po' Rieti adesso in vantaggio di 10 punti Giampaoli la linea di fondo può leggere questo tiro di Giampaoli sbaglia rimbalzo troneggiante di Rosignoli è il canestro simbolo se non quello definitivo della partita perché Rosignoli tra due giocatori di Crens ma comunque con stazza con centimetri con potenza con fisico con tutto si si ci conferma effettivamente il trend della partita è stato l'aspetto del gioco che ha fatto la differenza e mi dispiace solo perché non vorrei che poi la gente di questa partita ricordasse l'ultimo quarto visto che i Crens ne hanno giocati tre veramente splendidi sì soprattutto il tipo di avversario perché capisco rimanerci male per un quarto giocato così contro un avversario tra virgolette normale questo è un avversario poco normale perché è un avversario di altissimo livello sì addirittura se noi andiamo a vedere le statistiche di Rieti secondo me la più interessante è che non esiste un giocatore di Rieti che giochi più di 30 minuti di media partita e questo perché dalla panchina escono di giocatori così forti che i primi otto sono di fatto otto titolari non mi ricordo sinceramente a memoria nei recenti campionati di DNB una statistica simile nemmeno un giocatore sopra i 30 di media 2 su 2 di Giampaoli addirittura 54-68 Perin Aglio Asic blocco irregolare di Marengo fischiato dall'arbitro dice di no Mladenov cambia poco si mette le mani nei capelli di Marengo Giampaoli per Stanic fallo tecnico che per Mladenov eccessivo Mladenov si arrabbiava ancora e questo vuol dire che ci teneva ancora anche su meno 14 però un po' eccessivo stava facendo no col dito da mezz'ora ma non stava dando fastidio a nessuno soprattutto è un tecnico che non serve a niente a mio avviso sono quelle manifestazioni un po' di celodurismo degli arbitri fini a se stesse mancano 2 minuti e 42 Riete è sopra di 14 lascia parlare l'allenatore capisci che magari sta vivendo un momento di frustrazione perché la partita ha preso una piega immeritata nella forma e lascia andare e invece poi magari c'è questa volontà di far vedere chi è che comanda in un momento del tutto a mio avviso in influente sbaglia Granato da 3 rimbalzo di Giampaoli Perin una piccola dormita qui chiama a testa Stanic cerca di mandarlo a sinistra Tassinari deve tirare Felici Angeli non in tempo scadono i 14 secondi dopo il rimbalzo d'attacco ma il tempo corre inevitabilmente verso la fine poco più di 2 minuti 2.12 adesso 5-4-6-9 e dire che a inizio quarto periodo Rimini va avanti 5-1-4-7 22-3 il parziale in mezzo a questo 22-3 c'è 17-0 che ha distrutto la partita Perin Fallo questa volta di Giampaoli Marengo si è asirato impaurito per il secondo fallo in attacco consecutivo non è così in questa occasione Sì infatti il fallo era giusto in questo caso a favore di Rimini riguardo a quello che dicevi del parziale io guardo ancora una volta il bicchiere mezzo pieno perché secondo me in questa partita è mezzo pieno è il tipo di parziale che Rimini troppe volte contro le squadre forti ha preso nel primo quarto intanto Aziz va a segnare dando vita a partite non giocate questa invece è stata una partita giocata e il parziale lo prendi alla fine perché Rieti è più forte e alla fine alla fine ci sta e va bene perché comunque ti tieni 30 minuti di ottima pallacanestro Stanic negli ultimi due minuti va dentro Granato si gira sul perno sbaglia rimbazza ancora in attacco di un lungo di Rieti Felice Angeli adesso Stanic va dentro subito Mano Mancina Marengo non trova l'opposizione esatta Stanic segna altri due punti ora Gerberstein purissimo chiaramente Perin da tre punti sbaglia rimbalzo toccato da Aziz recuperato alla fine da Stanic aspetta i suoi applausi lo spicchio di tribuna con i Reattini aspetta gli otto secondi per partire Stanic parte adesso gli porta il blocco Rosignoli e poi palla per Felice Angeli linea di fondo passaggio al centro dell'area recuperato da Marengo Aziz due contro uno l'alza e questa è la classica cosa che ti fa uscire con la mare in bocca anche se hai giocato 30 minuti bene no sì soprattutto già mi vedo un meraviglioso tatuaggio della mano di Mladenov sulla coppa di Aziz perché questa è veramente una di quelle robe per cui non so se lo insegni il metodo Montessori ma uno scapaccione ci sta tutto perché è vero quello che dici tu che questa partita deve essere considerata proprio perché c'è un avversario di questo tipo da primi posti in classifica fortissimo come una buona partita di Rimini per 30 minuti eccezionale però è anche vero che devi aiutare il pubblico a fartela considerare così e se il pubblico va via con questa immagine con questo Alley Hoop da All Star Game dei Rook NBA allora c'è qualcosa che non va sì sì assolutamente hai detto tutto tu Felice Angeli Lunetta segna il primo però bravo coach Maladenov che ha lasciato in campo Azic per un motivo molto semplice perché in effetti poi io mi sono lasciato prendere dall'enfasi ma non credo che ci sia bisogno di dare un coppino a un giocatore dopo una situazione del genere perché il boato di delusione del pubblico era fin troppo chiaro e credo che Azic insomma si sia reso ben conto già solo da quello della bestialità che aveva fatto 22 da giocare 5-7-7-3 e rimesso in attacco per Perin tiro di Azic sbagliato rimbazza di Felice Angeli andrà a tenere palla fino alla fine passando alla metà campo ora Giampaoli presumibilmente Rieti rifioterà il tiro è così tiene via il palleggio Giampaoli ma finisce in questa maniera noi abbiamo tempo per confermare il risultato finale basketrimine Krebs 57 NPC 73 noi nel ringraziare Matteo Cardinale vi diamo appuntamento all'intervista del dopo partita un saluto a tutto da parte di Loriano Zannoni e Massimiliano Manducci che erano in Pistella a Roma contro la Luvis il saluto prossimo grazie per essere stati con noi e auguriamo una buona domenica una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti